Buonasera a tutti, oggi vogliamo presentare un articolo stupendo, un articolo di comunicazione da banco, progettato e realizzato interamente da noi, con nostro orgoglio, non in cartone ma questa volta in plastica, in polionda, ed è un porta brochure da banco con visual, visual di comunicazione, stampa in quadricromia plastificata e stampa completa anche sulla tasca, la tasca è prefustellata, si presenta steso per risparmiare anche qualche soldo di trasporto, fate conto che in un pacco così, di queste dimensioni, ce ne sta 50, quindi la spesa è molto bassa, ma veniamo al montaggio, visual e tasca, due semplici manovre, inserire una parte dentro a questa feritoia fino ad arrivare a un dentino, a questo dentino, il dentino si fa questa pressione e poi si va subito a infilare come fosse un giochino l'altra parte, sempre fino al dentino e il gioco è fatto, qua c'è un'aletta da infilare appunto in questa fessura, ed è fatto, già montato, stop, sta sempre in piedi, guardate che roba, come lo metti ha una stabilità pazzesca, non come quelli che si vedono in giro, che basta guardarli cadono tutti storti, questo fa molto bene il suo lavoro, nel senso che comunica e porta il leaflet, qui potete caricare, perché è progettato per caricare veramente tante brochure, anzi guardate lo zavorra ancora di più, senza nessun problema, questo è veramente un articolo interessante, eh?